Ibraimovic Si è girato come per dire Io segno, io sono decisivo Ha sentito la pressione dopo Manchester Boom Boom Tiro violentissimo E poi la mette sotto la traversa Imprendibile assolutamente Sedicesimo colpo di bridge Che bomba Perché la palla gira Ma soprattutto è fortissima 2 a 0 dunque Doppietta Ibra Sempre Giulio Cesar però No vabbè Quando me l'hai detto non aveva fatto il suo buono Ibra possiamo cambiare Ibra assolutamente 109 avete visto Non è il record Il record da San Siro è 147 Adriano Finisce qui E l'argo